Il delegato provinciale del sindacato dei medici italiani Saverio Ferrari manifesta lo sconforto dopo la morte in casa della 23enne avvenuta in una frazione del comune di Montauro, confinante con Montepaone, e dice Noi operatori non abbiamo alcuna responsabilità, chi di dovere dovrà individuare gli artefici di questo sfascio. Quando si legge della morte di una giovane ragazza, chi opera nel servizio di urgenza ed emergenza medica del 118, è colto da un senso di sconforto infinito e profondissimo. 18 minuti per l'arrivo di un'ambulanza, in un caso di perdita di coscienza, sono infinità. Intanto la procura di Catanzaro ha ordinato un'autopsia sul corpo della vittima, dopo la segnalazione dei genitori sulla mancanza di un'ambulanza con medici a bordo.